Al via Pordenone la progressiva sostituzione di tutti i 3.400 bidoni del vetro e dell'umido della città. Le operazioni verranno effettuate da GEA e Cooperativa Carpos, su disposizione del Comune. Dunque, Sindaco, al via la sostituzione dei cassonetti di vetro e umido. L'avevamo promesso e abbiamo mantenuto l'impegno. I cassonetti sono oggetti che ovviamente deperiscono, invecchiano, si rompono. E quindi per poter garantire anche un servizio migliore ai cittadini abbiamo deciso di sostituire. Intanto partiamo con questi, in tre lotti, quindi partiranno adesso ma si completerà l'operazione di sostituzione entro fine luglio. L'altro pezzo di operazione importante sarà quello, questo per non incidere sulla tariffa, quindi per non andare a pesare sulle tasche dei cittadini, sempre progressivamente sostituire anche i cassonetti più grandi. Quindi è un'operazione da un lato che porta maggior decoro, ma dall'altro lato anche migliora la funzionalità del servizio. Cambiano anche i colori in linea con le normative europee. I nuovi bidoncini del vetro sono verdi e non più blu, quelli dell'umido marroni e non più rossi. I nuovi contenitori sono inoltre dotati di adesivi in rilievo che permettono anche ai non vedenti di riconoscerli.